Ragazzi, vi giuro, ho provato veramente dei brividi, dei brividi ad ascoltare questo progetto orchestrale dedicato al grandissimo Bob Marley. L'orchestra Chainique, fra le migliori al mondo, ha realizzato un'opera fantastica. Allora, in poche parole vi dico cosa è successo. Hanno preso i brani più belli di Bob Marley, vi facciamo vedere la schieretta, e li hanno filtrati attraverso degli arrangiamenti orchestrali che voi non avete idea. Cioè, praticamente sembra una fusione fra il reggae e la musica Motown. Suoni spettacolari, il vinile è stato realizzato così come il CD che arriverà oggi, negli Abbey Road Studios. La qualità audio è spaventosa, ma al di là di quello, secondo me, da quello che ho sentito, è il più bel tributo che abbiano potuto fare all'immenso Bob Marley. Ve lo straconsigliamo perché potrebbe essere la vostra colonna sonora di questa estate. Attenzione, il vinile, come recita l'adesivo o lo sticker, come volete, è edizione limitata. Quindi chiamateci subito. Voto a questa operazione 9. Un gran bel 9. di B.